Viva gli studenti, viva la studentessa, viva l'Università di Siena, viva l'Università per stranieri, viva il Comune, viva Siena, un stile concerto! Dal perioda addosso, che ci sono i messaggi, mi servonoкамmiυχati, c'è qualcosa nella fine dell'estate. Non so niente che cos'è che non riesco a respirare. Io mi voglio Saltu questo Administratore. Io credo che sia come bene questa musica leggera. Meglio sparire nel rispetto del suore e delle cose... Quando la sola c'è avrà Resta molto presto per capire Il significato dell'amore L'idiazione in questi anni Il Vangelo di Giovanni La mia vera identità Ombi di stranieri dentro alle fontane Gli antichi bambini con delle taline Mentre del Papa sulla fede parricana Di un'antica ossa, maffi, maffi, maffi C'è il che volo dell'esistenza civile Con violenza intorno a me Io non riesco a sottotare Io non ho più voglia di ascoltare Questa musica del cera Meglio sparire nel rispero Che il dolore di due cose